ciao amici questa sera vi voglio parlare di un speciale tex wheeler numero 4 mefisto le origini del male uscito esattamente un anno fa 11 giugno 2022 allora questo albo che scritto da mauro boselli e disegnato da roberto de angelis mi è piaciuto mi è piaciuto una bella storia che è ambientata inizia proprio nella città di new york del 1850 innanzitutto vedete questa bellissima tavola con questo magnifico palazzo dei disegni del bravissimo roberto de angelis in pratica parla della storia iniziale di come steve di carte che il vero nome di mefisto grande nemico di tex che da poco aveva visto l'ultimo scontro che è stato dagli albi dal 738 al 744 scritti no c'è nel senso si da 738 al 744 che ha visto i disegni dei fratelli cestauro e di fabbici vitelli scritti sempre da mauro boselli in cui lì c'è questo scontro diciamo forse finale tra tex e mefisto ma dico forse perché diciamo non è stato non è morto definitivamente poi non vado a spiegare per chi non ha letto quella lunga saga che era iniziata appunto nell'aprile del 2022 e si è conclusa a novembre appunto del 2022 e quindi questa questa storia parla appunto di come lui steve di carte inizialmente mago da strapazzo diciamo un illusionista conosce prima un certo fezan che è un illusionista che lavora per il circo barnum e qui mi ricorda se ricollega al circo barnum anche alla serie che avevo recuperato che poi non ho parlato solo editorialmente perché poi mi ha un po di luso che era dan west il circo barnum di questo che lui ecco il circo barnum di questo soggetto qua che era proprio il proprietario di questo circo etricamente lui inizia questa carriera sfruttando i suoi primi diciamo rudimenti di magia chiaramente si fa strada riesce anche ipnotizzare delle folle e lui va delle feste private e attraverso l'ipnotismo si fa consegnare denaro gioielli quindi comincia a fare una piccola fortuna il significativo è anche questo fezan che tecamente vede nella attraverso gli occhi quello che poi sarà il futuro di questa m che ancora non si sa del gane avevi visto la cosa importante cosa particolare è che qui in questo albo io ripeto non sto ho preso alcuni albi di tex wheeler ma diciamo adesso non lo colleziono ho preso soltanto alcuni speciali questo ne avevo anche per recensito bandera che all'incontro con tex wheeler zagor matricamente questo mi incuriosiva perché appunto volevo vedere come nasceva la storia di steve di carte che anche da dire che quando l'invito dex lo incontra per la prima volta nell'albo fuori legge e poi che segue il numero 3 che segue poi non quale nel messico li è già quando lui agiva come spia insieme a una sorella e qui fa vedere come inizierà la sua carriera di spia per questo territorio messicano che voleva staccarsi da cioè che diciamo che in questo momento ancora diciamo voleva staccarsi dal messico e creare come uno stato autonomo e quindi lui fa un po il doppio gioco appunto da un personale veramente senza scrupoli quindi già si vede la sua cattiva natura che poi appunto si sforcerà in quello che tutti conosciamo come nemesi di tex allora c'è da dire che poi qui è importante anche l'incontro che lui fa con ritrova la sorella lily di carte personaggio chiave perché lei era in college in un collegio con un collegio riservato a persone insomma benestanti lui pagava la retta e si capisce subito che lei appunto non differisce dal fratello per quanto riguarda la mancanza di scrupoli infatti inizia la sua collaborazione ci sarà poi un poliziotto che cercherà di ostacolarli ma chiaramente non riuscirà anzi verrà addirittura e qui non vado a spoilerare perché anche se la storia è uscita un anno fa ma se qualcuno di voi e ve la consiglio a piacere di leggerla appunto non vado a spoilerare ma vedrete come come steve di carte qui lo chiama ancora anche se lui si veste appunto già da mefisto come sappiamo prende perché aveva questo usava ecco questo travestimento da diavola mefisto a mefistofede mi è piaciuto molto come riesce lui boselli diciamo ecco io boselli non lo amo molto una serie di con tex ma invece qui in questa tex wheel che poi anche sua creatura perché tex wheel è stato creato da mauro boselli che anche l'attuale curatore di tex qui ha fatto un buon lavoro soprattutto perché ci garantisce un meglio ci toglie tante curiosità noi lettori di tex di capire quello chi era steve di carte prima di conoscere tex wheeler in questo che qui è tex wheeler giovani quindi infatti noi il mefisto e steve o meglio steve di carte che incontriamo quando tex lo incontra nell'albo come detto fuori legge che il numero 3 che poi seguirà con l'eroe del messico che il numero 4 lì è invece già nell'attività ma non sappiamo come lui arriva a fare la spia e attraverso la lettura di questo ripeto ripeto bella storia possiamo capirlo e i disegni fantastici roberto di angelis veramente un grande mi piace tantissimo la precisione vedete volevo far vedere alcune tavole dei volti sia mi piace moltissimo c'era una tavola adesso vedete anche qui la precisione di questo teatro che poi il teatro è un famoso teatro ad elfi da cui poi prende anche i nomi la famosa casa editrice nota per i suoi libri ma basta molto impegnati che amo moltissimo come come pubblicazioni insomma la delizia e la precisione di ecco vedete qui no anche proprio di di tavole di disegni fa godere ancora al meglio questa questa bella storia che ripeto a come protagonista assoluto steve di carte e sua sorella lili ma per assurdo vi dico solo che tex wheeler compare proprio agli ultimissime pagine alle ultimissime come cameo e quindi questo si potrebbe dire che questa ecco speciale tex wheeler ma è dedicata proprio al nemico numero uno di di tex non ho visto anche c'è una storia che la numero di che vale al numero 10 la tensione della serie regolare tex wheeler dal numero 10 al numero 13 la binter pink torneri che poi l'agenzia pinkerton è quella tricamente che faceva e che indagava proprio su questi suoi illeciti diciamo noi di contrabbando di illeciti ma più che lecidi diciamo i suoi intrighi di spia di di steve di carte quello che ama ancora così non lo chiamo mefisto e sua sorella che poi verranno come sappiamo smascherati questo si può dire smascherati poi da tex quindi troviamo nella storia appunto quella che inizia con fuori legge l'albo di merote del tex regolare c'è da dire poi ecco un'altra curiosità che io ho recuperato la serie una serie che poi non ebbe fortuna che aveva sempre inizialmente uno dei primi video recensito l'amico gaspari di aspan 83 che si chiama judas dove adam welcher credo si aveva partecipato appunto questa agenzia pinkerton che è una gente famosa agenzia del west nota appunto per scoprire intrighi e casi abbastanza particolari niente quindi questo è tutto un lettura che storia che vi consiglio se non l'avete questa si può leggere tranquillamente da solo perché non si rimandi chiaramente con mefisto ma io penso che si può leggere anche anche se poi uno non conosce per assurdo diciamo come prima volta dice io non ho letto niente né di tex né tex wheel si può secondo me leggere tranquillamente poi ecco posso anticipare che parliamo sempre di tex chiaramente ho anche il tex fratello di sangue che sarà la prossima recensione che farò quindi queste recensioni saranno tutte dedicate diciamo a tex perché questo tex wheeler è sempre lui tex ma visto da giovani che ripeto poi alcuni albi forse le andrò anche a recuperare perché se andrò modo sarei curioso di leggerli so che appunto molti hanno detto la lettura più fresca più veloce rispetto al tex tradizionale infatti so che è una pubblicazione che piace molto ai giovani va bene non mi dilungo oltre vi ringrazio della vostra attenzione e vi auguro una buona serata e anche buonanotte ciao a tutti